Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con il sisma perché il Consiglio dei Ministri ha nominato Vasco Errani, commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto dello scorso 24 agosto. Il commissario, riferendo direttamente al Presidente del Consiglio, opererà il coordinamento con le amministrazioni statali in raccordo con i presidenti delle regioni interessate proprio dal sisma dello scorso 24 agosto e con i sindaci, nonché in stretto contatto con l'autorità nazionale anticorruzione per definire piani, programmi e risorse necessarie a ricostruire edifici pubblici e privati e infrastrutture. Peraltro il neocommissario straordinario per la ricostruzione oggi era atteso proprio ad Amatrice, il comune più colpito dal terremoto. E a proposito di scosse che continuano nel centro Italia, nel Reatino, soprattutto una nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 5.53 nei pressi proprio di Amatrice. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia, il sisma ha avuto un epicentro di 10 km di profondità, un epicentro di 2 km da Amatrice, 9 da Campotosto e 10 da Accumoli. In precedenza alle 3.55 di notte una scossa di magnitudo 3.1 era stata registrata con epicentro a 6 km da Castel Sant'Angelo, sul Nera, in provincia di Macerata e a 9 da Norcia. Per il momento però, per fortuna, non ci sono state segnalazioni di nuovi crolli, per fortuna. E alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno è stato consegnato un dossier di fotografie riguardanti i crolli causati dal terremoto ad Arquata del Tronto e nelle frazioni di Arquata del Tronto. Le lesioni prodotte anche dalle scosse successive. Il lavoro dei carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli si è concentrato sugli edifici pubblici, dove fortunatamente non si sono registrate vittime. Questa è la priorità indicata dalla Procura, che al momento mantiene il fascicolo aperto a modello 45, cioè notizie che non costituiscono reato, visto che l'inchiesta è ancora in una fase esplorativa. Anche l'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone accenderà un faro sui danni del sisma ad Arquata. La Guardia di Finanza ha consegnato all'ANAC un primo elenco preliminare di edifici lesionati, il Palazzo Comunale e la Scuola, le Chiese della Madonna del Sole e di Sant'Agata. E questa mattina, giorno di riapertura delle scuole materne, ci trasferiamo a Teramo. L'assessore Luca Antoni ha fatto il punto della situazione degli istituti terramani, rassicurando i genitori sulla sicurezza dei cinque plessi materni. Oggi riapertura degli asili comunali qui a Teramo, primo giorno per i bimbi che rientrano, anche se pochi, visto che alcuni ancora sono in vacanza. Qual è la situazione attuale degli edifici che i tecnici del Comune hanno comunicato all'amministrazione? Nei giorni passati i tecnici del Comune, io insieme a loro, abbiamo fatto dei sopralluoghi in tutti gli asili di proprietà del Comune, quindi i nostri cinque asili più il micronido che è andato in gestione a una cooperativa. E proprio ieri ci hanno lasciato un'attestazione dove i tecnici dichiarano che la situazione dei nostri nidi non è cambiata rispetto a periodo antecedente sisma. E quindi certificano l'usabilità degli edifici. Nel frattempo si stanno controllando anche le scuole materne, una parte sono state già verificate la scorsa settimana, altre sono oggetto di verifica in questi giorni. Insieme poi a seguire le elementari e le medie, chiaramente dobbiamo andare molto spediti. Qualora si dovesse rilevare qualche particolare condizione, ci sono i tecnici della regione a disposizione per dare un supporto, diciamo, tecnico. Chiaramente anche i dirigenti scolastici ci hanno chiesto di fare un attimino il punto della situazione, quindi per martedì pomeriggio è prevista una riunione con cui vedremo un attimino quello che è lo stato degli immobili a quella data e potremo confrontarci insieme a loro e decidere eventualmente il da farsi. Oggi ci troviamo nella struttura di via Diaz, una struttura ristrutturata, così come era stato detto dall'amministrazione comunale, che ospita 40 bambini. Ecco, quali sono i lavori nel dettaglio che sono stati fatti qui? Allora, i lavori che sono stati fatti sono dei lavori di miglioria, che sono terminati per quanto riguarda il nido e che stanno terminando, finiranno tra qualche giorno, nella parte della materna che viene ospitata da tutto questo istituto. I giorni scorsi c'è stata una lettera aperta da parte di un tecnico, nonché padre di un bambino che frequenta la San Giorgio. La San Giorgio non ha subito danni dal terremoto, a quanto pare, però ha un certificato che risale al 1968. Su questa situazione, quindi sulla San Giorgio, cosa state facendo? Il Comune sta facendo delle verifiche con i propri tecnici, che sono dipendenti comunali. Se l'ingegnere capo riterrà, in base a quello che andrà a rilevare, di chiedere l'ausilio di personale in più da parte della Regione, perché ci sono delle particole di criticità, lo farà, ma credo che nel giro di pochissimo tempo ce ne darà anche comunicazione. Quindi io aspetto comunque i report. Sarà ricevuto sabato in Vaticano da Papa Francesco il cane Leo, protagonista assieme al gruppo cinofili della questura di Pescara del ritrovamento della piccola Giorgia a Pescara del Tronto. Un salvataggio che di fatto è diventato simbolo dello scorso terremoto. Ieri intanto Leo, assieme al gruppo di soccorritori pescaresi, ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel, ospite a Maranello del Premier Matteo Renzi, che nella sede della Ferrari ha organizzato un incontro bilaterale nel quale discutere anche dei fondi straordinari da destinare all'emergenza del terremoto e soprattutto alla ricostruzione post-sisma. Cambiamo argomento adesso la questione H. Proda in Consiglio Comunale a Pescara. critica la posizione del Movimento 5 Stelle che chiede chiarezza e trasparenza. Si parla in Consiglio Comunale in questi giorni della questione H. Da una parte la maggioranza, dall'altra l'opposizione. Qual è di Pillo invece la posizione del Movimento 5 Stelle? La posizione del Movimento 5 Stelle è semplice e l'abbiamo illustrata nell'intervento durante il Consiglio Comunale. C'è quella del Partito dell'Acqua che c'è, rimane ed è consolidato anche da quelle che sono le voci del futuro nuovo Consiglio dell'Amministrazione, dell'amministratore unico dell'Acqua. Purtroppo quella che è stata la gestione da parte di Baldassarre, nonostante ci siano stati sicuramente migliorie, ma rimangono comunque delle spese enormi, tipo per esempio 10 milioni di Euro spesi per l'energia elettrica o 5 milioni di Euro spesi per la gestione dei depuratori come voce generica. Quindi comunque ci sono molte cose da migliorare, rimangono comunque delle passività pesanti e quindi noi speriamo che la ripubblicizzazione dell'Acqua come da percorso iniziato nel 2012 possa realmente concretizzarsi con questo nuovo amministratore unico. Secondo voi cosa si dovrebbe fare in futuro per far sì che l'Acqua possa davvero funzionare? Bisogna tener conto che c'è stato un referendum nel 2011 che ha sentenziato che l'Acqua è pubblica e quindi la gestione deve essere pubblica. Come sta avvenendo, come è avvenuto in altre città italiane e dove la cosa sta andando bene, quindi non vedo il perché, non si possa provare, ripeto, portare a termine quel percorso che è iniziato nell'aprile, se non mi ricordo male, del 2012 da parte anche del Forum dell'Acqua e da parte anche dei sindaci di quel periodo. 1.240.000 euro i danni richiesti dal comune di Montesilvano alla Tradeco, la ditta che si è occupata della gestione dei rifiuti proprio nel centro in provincia di Peschiara sino allo scorso 25 agosto, oltre a quelli di immagine che verranno quantificati dal giudice presso il Tribunale delle imprese dell'Aquila. Questo perché? Perché i valori di raccolta differenziata a Montesilvano si sono fermati intorno al 23%, un dato ben lontano dal 65% invece previsto dalla legge. Tutto questo ha ingenerato costi di smaltimento superiori proprio a causa di una maggiore quantità di rifiuti indifferenziati rispetto a quelli differenziati. A tale richiesta, fondata su elementi tecnici, il comune ne è affiancata anche una per il danno all'immagine. La ditta, infatti, avrebbe dovuto operare una campagna informativa con cui sensibilizzare i cittadini a differenziare correttamente i rifiuti. E tale inadempienza, dice Paolo Cilli, dirigente, assessore all'igiene urbana di Montesilvano, tale inadempienza che abbiamo puntualmente sottolineato e sanzionato alla ditta stessa, si è palesemente riflessa sull'immagine, ovviamente, della città. A Pescara, invece, a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, si registrano i primi problemi. Questa mattina, dinanzi al Palazzo di Città, gli studenti della sede di Porta Nuova del liceo scientifico Da Vinci, 10 sezioni per 200 ragazzi, hanno manifestato dopo lo sfratto dai locali di Via Brandano, angolo via Vespucci. Gli studenti, che hanno esposto uno striscione con scritto ci avete reso nomadi, chiedono ora di conoscere quale sarà la nuova sede della scuola. Questa mattina, proprio per cercare di risolvere il problema, il preside del Da Vinci, Giuliano Bocchi, ha chiesto ed ottenuto un incontro con il sindaco Marco Alessandrini, che malgrado il comune non abbia competenza in materia, ha dato la disponibilità a rendersi utile nel caso fosse possibile. Prevista a tal proposito la convocazione di un tavolo di lavoro con tutti i soggetti. interessati per affrontare le problematiche evidenziate dal preside nell'incontro con il primo cittadino. Rimaniamo a Pescara, le associazioni ambientaliste criticano ancora il comune per il taglio degli alberi, contestando anche la mancata comunicazione alla cittadinanza. Siamo con Nicoletta Di Francesco del WWF Chieti Pescara, qui a Pescara per parlare di questa vicenda del taglio di alcuni alberi da parte dell'amministrazione comunale. Voi eravate e restate fermamente contrari, però il comune dice che alcuni alberi sono pericolosi per l'incolumità pubblica. Noi non discutiamo su questo, noi discutiamo sul fatto della trasparenza e della mancata comunicazione che c'è stata con le associazioni che facevano parte del tavolo verde. Abbiamo chiesto l'incontro al sindaco con la sospensione, almeno fino a venerdì, degli abbattimenti per poter discutere e raccontare le nostre opinioni fondate, non casuali, però finora c'è stato confermato l'incontro per venerdì alle 11.30, ma senza sospensione dell'abbattimento e qui non ci stiamo. Quindi intanto per il momento questi tagli, questi abbattimenti di alberi proseguiranno, nel merito invece qual è la vostra posizione? Noi non discutiamo sull'abbattimento, discutiamo sul fatto che molte analisi sono state fatte soltanto dal punto di vista visivo, chiediamo ulteriori accertamenti, abbiamo visto che gli alberi abbattuti finora sono soprattutto quelli che forse sembravano più sani e aspettiamo perché vorremmo veramente vedere cosa si vuole fare di questo verde urbano che appartiene a tutti, con i costi dei cittadini, perché i costi sostenuti dal comune sono costi dei cittadini. Raccogliere le migliori risorse per contribuire alla redazione del piano regionale della qualità dell'aria. Il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso e il vicepresidente Giovanni Lolli hanno incontrato i rappresentanti di Confindustria Abruzzo, che vedete nelle immagini, per ascoltare le istanze che provengono dal mondo dell'imprenditoria alla luce della carta di Pescara, nuovo strumento regionale in fase di elaborazione che detta gli indici sulla qualità dell'aria che respiriamo. Partendo dai dati dell'arta, Confindustria presenterà una relazione nella quale sarà indicato l'attuale carico inquinante delle aziende, alla luce anche dei numerosi cambiamenti che si sono registrati negli ultimi anni, con diverse imprese che hanno dismesso la produzione riducendo quote di aria inquinata. La regione Abruzzo ha chiesto a Confindustria di mettere nero su bianco la reale consistenza del carico inquinante in modo da tracciare un quadro più realistico in funzione del nuovo piano. Il 2, 3 e 4 settembre a Pescara si terrà la festa dei giovani democratici, un'occasione di confronto per parlare anche di referendum. Fra gli ospiti anche il governatore della regione Sicilia, Rosario Crocetta, vediamo. Frattarelli, 2, 3 e 4 settembre, importante appuntamento a Pescara con la festa dei giovani democratici. Sì, la prima vera festa regionale dei giovani democratici, la prima festa dell'unità dell'organizzazione giovanile del Partito Democratico. Inizieremo il 2 settembre toccando il tema della regione, un dibattito quindi da carattere regionale, insieme al Presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, insieme ad altri consiglieri, assessori regionali del Partito Democratico della nostra regione per discutere invece alle ore 21 del referendum costituzionale, insieme a Stefania Pezzopane, insieme ad Antonio Castricone ed altri esponenti anche del no. Saranno in confronto a due voci, a più voci. Il 3 settembre invece parleremo di Europa con l'onorevole Massimo Palucci, l'eurodeputato Massimo Palucci, Elena Gentile e Luciano D'Alfonso, mentre il 4 settembre toccheremo il tema del sisma, del terremoto, quindi dell'emergenza e della solidarietà, insieme a Mattia Zunino che è il segretario nazionale dei giovani democratici, Marco Rapino, segretario regionale del PD e Stefano Albano, della segretaria nazionale dei giovani democratici, nonché un concittadino aquilano e Giuditta Pini, la deputata del PD di Modena. Per concludere, il 4 settembre concluderemo al meglio la festa con il concerto dell'artista di Latina Calcutta che ha registrato in tutto il tour estivo il sold out, quindi siamo sicuri che anche a Pescara si replicherà una grande festa. Parliamo di eventi adesso, il meglio dell'arte circense internazionale, a metà ottobre si darà appuntamento a Chieti per la prima di un tour europeo destinato a registrare. Grandi numeri, vediamo. I più noti acrobati e performer internazionali del Cirque du Soleil e del mondo, riuniti in uno show che avrà come tappa d'anteprima a Chieti. Alice ha accolto nel tour di lancio con un incredibile successo di pubblico, oltre 15.000 spettatori in nove show, tutti sold out, sosterà nel capologo teatino a metà ottobre in una tenso struttura allestita nei pressi dello stadio Guido Angelini. La nostra città è stata scelta tra poche città in Italia proprio per le esibizioni in anteprima di questo spettacolo. Sarà ospitato il 14, 15 e 16 di ottobre, ci saranno quattro spettacoli nella zona dell'antistadio Angelini giù a Chieti Scalo. Siamo onorati anche perché la nostra città ha dimostrato recentemente di saper accogliere e ospitare questi grandi eventi. Vi attendete anche tante presenze? Sicuramente sì, ci aspettiamo molte presenze, presenze chiaramente che verranno sicuramente anche da fuori dalla nostra città, perché sarà sicuramente un evento che avrà una portata quantomeno regionale, anche perché parliamo di quattro spettacoli con capienza di 1700 persone, quindi una struttura sicuramente significativa. Viame Festival con polemiche tra comune di Teramo e organizzatori. La manifestazione è organizzata dal circolo Arci, officine indipendenti dopo vari cambi di location e si terrà nel circolo di Via Bezzola. Vediamo. Lo Iame Festival, terza edizione del Festival delle officine indipendenti di Teramo, evento conclusivo della rete dei festival indipendenti teramani, quest'anno è condito dalle polemiche sollevate dagli organizzatori nei confronti del comune per problematiche legate alla location. Inizialmente, infatti, il festival si sarebbe dovuto svolgere alla villa comunale con il il patrocinio del comune. Successivamente, però, la giunta avrebbe fatto marcia indietro, negando sia la villa sia il mercato coperto location alternativa. Il perché? Questa è la lettura di Giorgio Giannella. Il risultato è che oggi non siamo nella condizione di poter ospitare questa manifestazione pubblica. Una manifestazione, tra l'altro, che avrebbe previsto, come stiamo facendo a livello nazionale, una raccolta fondi per i terremotati tramite, nel parco della villa comunale, una cena per il sisma con la matriciana, piatto tipico, che sicuramente ci portava a un risultato importante per come siamo abituati noi di concepire iniziative pubbliche, non come eventi, ma come iniziative che devono coniugare con la musica e non solo, anche un impegno sociale. Probabilmente al comune e al sindaco in persona il nostro risultato nella ricorsa al TAR non è piaciuto, di una polemica che è alimentato da solo quest'estate, alla quale non abbiamo risposto, ma oggi lo facciamo. Se il sottoscritto, perché poi era molto personale, deve imparare a leggere le sentenze, farò questa promessa nel momento in cui lui capirà quello che è scritto nelle sentenze. Dunque il festival si farà, ma nella sede del circolo Arci, officine indipendenti di Via Vezola, in più ci sarà una raccolta fondi per i terremotati. Il programma prevede due dibattiti, uno venerdì alle 18.30 con i rappresentanti della Banca Etica sulla finanza etica e rapporti con gli enti locali. Domenica invece ci sarà un dibattito con SmartEat e SoundRiff, che sono due società che si occupano di diritti creativi e diritti d'autore, in maniera diversa dalla CIA. Venerdì sera ci sarà il concerto Rocksteady dei Quentins, sabato del duo americano di Chicago The Living Dead e domenica ci sarà una serata in collaborazione con Archie Gay, con una drag queen Lady White e DJ Stefania Persiani. Dal 3 al 18 settembre al circolo Aternino di Pescara, mostra personale di Dennis Bacchetti dall'articolo Tutuiat, innocenza della precarietà. L'innocenza della precarietà, questo è il titolo di questa mostra che si tiene a Pescara, siamo con Silvia Moretta, curatrice della mostra. Vogliamo un attimo parlare di questa mostra e soprattutto di questo titolo, cosa significa? Sono lieta di tornare al circolo Aternino perché questa mostra sarà inaugurata sabato sera dalle 21.30 proprio in un luogo a me molto caro. L'artista è Dennis Bacchetti, inauguriamo la sua mostra personale dal titolo appunto Tutuiat, innocenza della precarietà. L'artista è un pittore astratto che ricongiunge tramite la sua pittura, si ricongiunge a tutto quel filone dell'astrattismo informale perché nella sua opera c'è anche una forte componente segnica e gestuale e il titolo è una parola segreta, definiamola così. È in effetti il mostro visualizzato dal pittore al tempo della formazione del suo immaginario, quindi quando era piccolo, il tempo dell'infanzia. Peraltro l'inaugurazione sarà ricca di contaminazioni, se posso definirle così, perché diversi artisti intellettuali hanno partecipato anche alla redazione del catalogo della mostra Tutuiat. Poi una grande novità, al circolo Aternino entrerà un pianoforte a coda che sarà suonato da due compositori e pianisti che sono appunto Marco Arturo Messina e Mario Mariani. Ultima novità sempre per la sera dell'inaugurazione, avremo la proiezione in anteprima assoluta di due cortometraggi che hanno il titolo Bon Vol di Bacchetti, Sciolet e Torzolini del 2015 e L'Uomo Nero proprio di Flavio Sciolet. Apriamo adesso la pagina dello sport, ovviamente partiamo dal Pescara, perché se il campionato di Serie A è fermo, allora i biancazzurri approfittano della sosta per inserire soprattutto i nuovi arrivati. È stata questa, ma non solo, c'era anche uno spirito di solidarietà nell'amichevole che questo pomeriggio si è giocata a Colonia Spiaggia tra il Pescara appunto il San Nicolò che domenica inizia la propria avventura in Serie D, finita 3-0 per gli uomini di Massimo Oddo, Reti Dimitrizza, Aquilani e l'attaccante proveniente dal Paris Saint Germain Baebec. Un test non probante ovviamente per la truppa di Oddo che era comunque priva dei nazionali Verre, Vitturini, Ghiomber, Memushai e Manai e di buona parte dei big rimasti ad allenarsi in sede, ma è stata l'occasione buona per mettere minuti nelle gambe proprio agli ultimi arrivati che peraltro due di questi, Aquilani e Baebec, sono andati in gol ma oltre a loro hanno disputato questa amichevole Pepe e Muric, peraltro è stata indetta contestualmente alla partita una raccolta fondi da destinare dalle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso ed era anche un modo per ricordare Silvino De Miglio, storico dirigente del calcio coloniese, venuto a mancare qualche mese fa. Peraltro Gianluca Ginobble è stato scelto come testimonial della Pescara Calcio, uno dei componenti del trio Il Volo, eccolo qua, lo vediamo proprio nelle immagini di questo pomeriggio mentre palleggia lo stadio di Colonia, dunque Ginobble è testimonial della Pescara Calcio a farlo sapere il presidente Daniele Sebastiani che ha dichiarato è un onore consegnare la maglia a Gianluca che porta alto il nome dell'Abruzzo, eccolo qui con la maglia insieme a Massimo Oddo, porta alto il nome dell'Abruzzo del mondo. Consegna venuta questo pomeriggio sul campo di Colonia, campo caro a Ginobble poiché lì si allena il fratello minore Ernesto impegnato con il Colonia Calcio a consegnare la maglia, c'era anche il tecnico Massimo Oddo, a Ginobble è stato lasciato l'onore anche del calcio d'inizio, al termine della gara ha dichiarato sono un grande tifoso del Pescara e l'Abruzzo merita di volare, è proprio il caso di dirlo, sempre più in alto. Beh ecco queste le immagini, decisamente molto più bravo con il canto ma se la cava bene anche su un terreno di gioco, assolutamente complimenti a Gianluca Ginobble. Peraltro ieri sera si è chiuso il calciomercato, torniamo davvero al calcio giocato per il Pescara. non è arrivato il colpo in attacco, l'organico resta quello dell'ultima settimana, eccezione fatta per le cessioni di Nicastro, Aresti e Selasi, anche se si riapre la via che porta Gonzalo Bergessio svincolato dai messicani dell'Atlas. In servizio. Apriamo ora la pagina sportiva, si è chiusa pochi minuti fa la sessione estiva di Massimo Oddo lo aveva detto nelle conferenze pre e post Sassuolo, il mercato è chiuso, abbiamo due alternative in ogni ruolo e restiamo vigili solo per cogliere delle opportunità che il mercato ci può concedere ed in effetti il Pescara non ha portato a compimento movimenti in entrata, ufficializzando solo alcune minori situazioni in uscita. Ma l'ultima giornata è stata comunque convulsa perché i dirigenti del Delfino quelle opportunità hanno provato a coglierle. Nel pomeriggio si era sparsa la voce di un interessamento, niente meno che per Antonio Cassano, finito in rotta di collisione con la Sampdoria e il presidente Ferrero. Ma il talento di Barivecchi ha detto no a tutti, anche a chi ci ha provato veramente come il Palermo, mentre in casa Pescara il presidente Sebastiani aveva subito smentito l'interessamento. Il testa a testa su obiettivi comuni col Palermo, quasi un antipasto di una probabile lotta salvezza, ha caratterizzato il pomeriggio ma alla fine nessuna l'ha spuntata. Non è stato così per Pietro Iemmello che ha firmato con il Sassuolo e in terra Emiliana resta. La squadra di Eusebio Di Francesco ha infatti ceduto trotte e falcinelli al Crotone e allora Iemmello tra campionato ed Europa League le sue chance se le giocherà. Testa a testa per l'attaccante argentino Gonzalo Bergessio che nel pomeriggio è arrivato a Milano, non ha avuto esito l'incontro tra gli agenti del calciatore e i dirigenti biancazzurri. Sull'argentino c'è stato anche il pressing del Chievo ma il discorso col Pescara potrebbe riaprirsi prossimamente essendosi svincolato dai messicani dell'Atlas. Dal Trapani secconò alla partenza di Bruno Petkovic e come se non bastasse nei minuti finali è stato offerto al presidente Sebastiani Pablo Daniel Osvaldo già accostato nelle settimane precedenti ma l'ingaggio è fuori portata. Anche sul fronte difesa giornata movimentata con una serie di ritorni di fiamma dopo un minimo ammiccamento con l'albanese Arlind Agetti ora di proprietà del Torino era stato allacciato il discorso con Guglielmo Stendardo accordo praticamente trovato per un contratto di un anno più un altro in caso di salvezza ma Oddo non potendo garantire un ruolo importante da titolare all'ex Atalanta a meno di una cessione di un difensore biancazzurro già in rosa ha bloccato l'affare. Infine il Delfino ha ritentato la pista Yao ma nulla da fare per il difensore promesso dall'Inter al Nizza. Sul fronte delle uscite ufficializzate oggi le cessioni del portiere Simone Aresti a titolo definitivo alla Ternana con un anno di contratto del centrocampista Ransfor Selasi che va al Novare in prestito con diritto di riscatto e dell'attaccante Francesco Nicastro finito anche lui in Bial Perugia. Chi è rimasto in casa Pescara? Il difensore centrale Andrea Coda che andiamo ad ascoltare nell'intervista. Cerco di essere a disposizione del mister. Mi dispiace per la prestazione con il Napoli perché comunque abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo fatto un primo tempo veramente di altissimo livello e il secondo tempo comunque è venuto a fuori anche la qualità del Napoli e poi come ho detto prima mi è dispiaciuto tantissimo per il mio errore che comunque ha comportato a un pareggio che alla vigilia magari poteva essere un ottimo risultato ma visto l'andamento della partita sicuramente era anche abbastanza stretto ecco perché come ho detto prima abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello. Se la vediamo alla fine potevamo avere anche quasi sei punti se la vediamo proprio così. È stata tra virgolette una piccola giustizia, una piccola rivincita da parte nostra perché comunque come ho detto prima per la mole di gioco espresso e per le occasioni create in queste due partite sicuramente potremmo anche meritare sei punti quindi sicuramente ecco il discorso è come ho detto prima. Noi adesso è ovvio che fa un enorme piacere, un'enorme emozione e ripaga ecco il lavoro fatto quest'estate e quello che è creato ecco da un anno e mezzo a questa parte di cercare di integrare nel miglior modo possibile i giovani e lo zoccolo duro verso l'obiettivo ecco che sappiamo tutti quindi questo sicuramente ci può aiutare questi quattro punti ma come ho detto prima dobbiamo cercare di stare tranquilli con i piedi per terra e cercare di arrivare al primo possibile al nostro obiettivo. Abbiamo un gruppo, uno zoccolo duro che va avanti da diversi anni, io sono qua da sei mesi ma ho visto e mi hanno fatto integrare nel miglior modo possibile perché appunto come detto prima dallo staff tecnico, sanitario alla società ai tifosi come abbiamo visto l'anno scorso come ho già detto quest'estate che io ho avuto pochissime volte un'emozione forte così e a Udine abbiamo raggiunto determinati obiettivi ma vi dico la verità raramente ho provato le emozioni dell'anno scorso a giugno e questo crea comunque uno zoccolo duro, una filosofia, un'unità di intenti che ci può portare come ho detto prima al nostro obiettivo che è come la Juve se vince il campionato. E' arrivato invece il colpo in attacco per il Lega Pro per il Teramo, si tratta di Jefferson, attaccante brasiliano proveniente dal Latina Teramo che sabato alle 16.30 ospita il Bassano. Jefferson è l'ultimo colpo di mercato del Teramo in questa sessione estiva che si chiude senza il centrocampista tanto atteso da Lamberto Zauli per rimediare la partenza dolorosa di Stefano Madio. Tentativi ce ne sono stati per Baldassin prima, per Sporcati poi inserendo nell'affare anche Luca Forte, poi Steffè l'anno scorso a Savona ma i tempi erano decisamente ristretti per poter pensare di trovare il giocatore adatto alle esigenze di Lamberto Zauli che alla fine dovrà adattarsi con quello che ha almeno fino a gennaio quando il diavolo potrebbe tornare a cercare la pedina ad oggi mancante. Chi è arrivato invece è l'attaccante verde oro Il 28enne brasiliano ha sottoscritto con il club di Via Oberdan un contratto annuale cresciuto nelle giovanili del Paranà. Il suo approde in Italia è datato 2008 col trasferimento alla Fiorentina. Nelle successive esperienze in Lega Pro ha siglato 25 reti in 64 presenze suddivise con le maglie di Cassino, Latina e Casertiana. Quest'ultima dal gennaio scorso mentre in Serie B ha vissuto anche le realtà di Frosinone e Livorno realizzando complessivamente otto marcature. Arriva a Teramo come punta che dovrà sostenere la squadra quando è in difficoltà e fa fatica a salire dando al tecnico anche variazioni sul modulo. Sabato mattina intanto presentazione ufficiale delle nuove divise da gioco dei Biancorossi mentre anche in considerazione degli eventi che hanno colpito il centro Italia si è deciso di annullare definitivamente la serata di presentazione della Rosa. Sabato arriva il Bassano di Luca D'Angelo e dopo la battosta del Saleri di Lumezzane occorre iniziare a muovere la classifica per non trovarsi da subito con l'acqua alla gola. Probabile ma non scontato che Zauli opti per un cambio di modulo che preveda il tridente davanti anche per mettere nelle migliori condizioni Petrella e Forte di dare il meglio aspettando che Jefferson sia al top della forma fisica. E questo era l'ultimo servizio per il nostro telegiornale vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con il ciclismo con Velo ovviamente fare i puntati sullo Vuelta ma anche tanto ciclismo di casa nostra il TG6 torna invece questa sera alle ore 23. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.